Con grande soddisfazione siamo riusciti ad attivare un servizio che ritengo importante alla Farmacia Comunale 1. Ci sarà la possibilità di essere sottoposti a tamponi rapidi, gratuiti, in particolare la categoria degli studenti, di tutti i familiari, quindi i genitori, le sorelle, i fratelli, ma anche i nonni, tutti coloro che fanno parte di un numero familiare allargato, quindi anche non conviventi. Inoltre è possibile sottoporsi al tampone rapido anche per tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado, quindi dallo 0-3 fino alle scuole superiori, tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola possono prenotare telefonicamente o di persona il tampone rapido presso la Farmacia Comunale 1 e ringrazio vivamente il direttore e i farmacisti che si sono resi disponibili e che effettueranno personalmente il test. Questo è un servizio importantissimo che ci aiuta come comune ad aumentare il monitoraggio, lo screening che stiamo già facendo con il servizio di tamponi gratis che l'amministrazione ha messo a disposizione, ma che permetterà appunto ancora ad una fascia particolare della nostra popolazione di poter richiedere questo aiuto naturalmente tutto gratis a mente.